Ciao a tutti, sono Vittorio Matteucci. Ciao a tutti, sono Marco Manca. Sono Rosalia Missari. Ciao a tutti, sono Vittorio Madula. Sono qua per invitarvi al corso di musical che si terrà alla scuola 100% musica. Io sarò uno dei docenti e insieme agli altri miei colleghi vogliamo prepararvi perché voi arriviate pronti alla prova del palco. Studierete danza, recitazione, edizione, canto e tutto ciò che concerne alla preparazione di un bravo performer. Voglio invitarvi nell'accento per cento musica. Recitare, cantare, ballare, mettere insieme queste tre arti e costruire uno spettacolo. Tutto questo e molto altro saranno l'oggetto del corso che io e i miei colleghi terremo con la dedizione, l'esperienza e la passione che ci contraddistingue. E sono qui per invitarvi al corso di musical che si terrà presso la 100% musica. Lavoreremo sulle varie discipline inerenti all'opera moderna e al musical appunto. Insomma, tutto ciò che serve ad ogni singolo alliemo per imparare ad affrontare il palcoscenico. Altro docente di questo corso sarà il coreografo Vittorio Padula, che si occuperà di tutta la parte coreografica. Io sono orgoglioso di condividere questo percorso con i miei fantastici colleghi, veramente fantastici, e sono altrettanto orgoglioso di essere diretto dalla 100% musica. A presto, vi abbraccio, ciao! Sarà una fantastica avventura, io sono entusiasta e non vedo l'ora di incontrarvi e di iniziare insieme questo percorso. Vi aspettiamo! Mi sembra ci siano tutti i presupposti per poter iniziare un nuovo percorso insieme, fatto vi garantisco di fortissime emozioni. L'ambiente sarà serio, professionale e io vi aspetto numerosi per questa grande, nuova, importante e emozionante avventura. Ciao a tutti, a presto! Un vero amico tuo, non c'è altro, amico, amico, come me, un amico grande come me.